Ringrazio della presentazione, preciso non soprattutto, esclusivamente i ritratti genovesi, non mi sono mai occupato di altro periodo dell'attività di Rubens. Ringrazio ovviamente gli organizzatori del convegno per l'invito e richiamando le parole con cui Raffaella Morselli ha aperto il convegno, ricordo che oltre a essere da 40 anni uscito il volume di Michael Jaffe su Rubens d'Italia, sono anche 40 anni, anzi 41 in tutti e due i casi, da che è uscito il primo tomo del diciannovesimo volume del Corpus Rubenianum dedicato ai ritratti di Rubens fuori delle Fiandre e per ciò che riguarda Genova i 40 anni trascorsi hanno prodotto una quantità di studi, ricerche, frutti che meritano, essendo passati 40 anni, un aggiornamento per vedere lo stato degli studi, vedere quanto di quello che era stato pubblicato, direi quasi meritoriamente dati i tempi da Francis Humer, oggi è ancora valido. In molti casi si tratta di precisazioni di nomi o quantomeno suggestioni di nomi di personaggi che può sembrare un'operazione meramente erudita, cioè dire che un ritratto è quello di Luigi Rossi o piuttosto di Giovanni Bianchi, oggi come oggi potrebbe non dirci niente. In realtà come diverse delle relazioni che sono state presentate qui e come già era ben nota Francis Humer, è proprio dalla tela che si tesse tra questi personaggi, la corte di Mantova nello specifico e l'attività di Rubens che si riescono a definire meglio queste cose. Il criterio era già chiaro nel 1977 quando a Genova ci fu una mostra dedicata a Rubens, Rubens e Genova appunto, e Giorgio Doria in un saggio storico cercò di tracciare un albero genealogico dei rapporti di parentela fra queste famiglie. E forse proprio partendo da quel tipo di ricerche che io ho cominciato a studiare e vedo che la quantità di studi che si stanno moltiplicando sul collezionismo genovese, una minima ispirazione a questo tipo di tematiche hanno preso, cioè la genealogia, stabilire le parentele e gli alberi genealogici in maniera chiara anche perché dagli alberi genealogici derivano poi le vicende ereditarie dei dipinti. In una situazione di Genova dove per via di un'economia di stampo prettamente finanziario, laddove queste famiglie non erano dinastie, non erano sovrani, quindi non esiste una storia ufficiale e pubblica di queste famiglie, non famiglie private, con vicende varissime come succede a questo mondo, con matrimoni, estinzioni, eredità, divisioni ereditarie, dispersioni di eredità, vendita all'asta, una mutevolezza di situazioni che spiega anche perché tanti di questi ritratti, come peraltro nel caso di Van Dyck o Van Dyck, diciamo come vogliamo, è successo, cioè hanno perso molto spesso l'identità, salvo i casi in cui non siano rimasti, il caso eccezionale di Palazzo Rosso, i ritratti dei Brigno e le Sale sono rimasti nella casa dei Brigno e le Sale fino ad oggi e quindi non ci sono dubbi. Allora io faccio proprio riferimento al volume diciannovesimo del Corpus Rubenianum e comincio dal primo dei ritratti genovesi citato da Heumer, che è quello di Agostino Doria. Francis Heumer faceva riferimento all'edizione del Ratti del 1780, io preferito per noi genovesi è molto più consueto usare la prima edizione perché ci porta indietro nel tempo, dove appunto Ratti cita questo ritratto definendo senatore che faceva pensare che è un personaggio vestito di nero, i senatori a Genova si vestivano di nero e dice di grande bellezza. Rispetto al diciannovesimo volume abbiamo l'inventario di Marco Antonio Doria che era il figlio di Agostino, dove nel 1620 è citato specificamente il ritratto dell'illustissimo signor Agostino di Pietro Paolo Rubens, ma di grande interesse anche per il repertorio delle date che riguardano Rubens, in un inventario sempre dei Doria d'Angri è riportata la scritta che era sul dipinto, dato fondamentale perché è del tutto eccezionale, come vedete dalla scritta si dice chiaramente che il dipinto fatto da Petri Rubeni, belga di Anvert, è stato fatto a Genova nell'anno 1607 e addirittura si precisa il 3 di novembre che dobbiamo pensare è la data finale di esecuzione dell'opera ma ribadisco è un dato del tutto eccezionale e in compenso è talmente preciso che dobbiamo dire il 3 di novembre del 1607 Rubens era a Genova. Direi che non c'è dubbi a questo riguardo perché una scritta così precisa nel volume di Humer si dà l'interessante dato che poi il ritratto è ancora documentato a Napoli nella collezione Colonna di Stigliano che sono una delle tante famiglie eredi dei Doria d'Angri a fine ottocento, dalla fine ottocento non ne sappiamo nulla. Quindi l'apporto essenzialmente è quello di avere una data precisa di questo ritratto e di avere addirittura un'indicazione cronologica per Rubens a Genova. Humer poi parla del ritratto di Agostino Dori e Famiglia facendo riferimento a sia il Ratti sia un viaggiatore inglese di metà settecento che parlano entrambi di una miniatura ritenuta assai celebre che si crede del Rubens, è significativo che Ratti dica che si crede, cosa che non dà una certezza, nella quale sta espresso il doggio Agostino Doria con tutta la sua numerosa figliuranza e il viaggiatore inglese dice anche che sono ben quattordici figure indicando un anno 1607. L'opera in questione è venuta fuori, è questa straordinaria miniatura, misura 40 cm per 30 grossomodo, corrisponde perfettamente alla descrizione l'unica questione è che non è Rubens, questo è abbastanza evidente e il nome dell'artista viene fuori sempre dagli inventari Doria, è quel William Van Dynen attivo a Genova come ritrattista, recentemente Anna Orlando ha pubblicato un ritratto appunto di Van Dynen che significativamente in rapporto a quello che si è detto in questi giorni, quando finisce di lavorare a Genova, a Genova è documentato per diversi anni, ma quando finisce di lavorare a Genova torna in Fiandra come miniatore di Alberto Isabella, quindi evidentemente un artista di gran qualità, quindi la seconda scheda di Hummer a questo punto è da espungere dal catalogo. Di Giovan Carlo Doria non ci sono grandi novità, è stato scritto a cominciare dal famoso saggio di Roberto Longhi, l'identificazione del personaggio è certa a questo punto, laddove invece Longhi era ancora incerto se si trattasse di uno o l'altro dei fratelli Doria, l'unica precisazione riguarda un tema più ampio, lo dirò troppo breve, viene indicato di volta in volta come ritratto del principe Giovan Carlo Doria, ma Giovan Carlo non era principe, come devo dire, la Brigida Spinola Doria non era marchesa, quindi non dobbiamo chiamarli con questi titoli nobiliari che questi personaggi non avevano. Nel caso di Giovan Carlo Doria divenne principe suo fratello, ma divenne principe suo fratello dieci anni dopo che lui era morto e dato che i titoli non passano per proprietà transitiva, Giovan Carlo non era principe. La scheda diciannovesima presentava uno dei due celebri ritratti di Kingston Lacey come Caterina Grimaldi, però interrogativamente con un nano. Le identità di questo personaggio nel tempo le vedete elencate, io con Anna Orlando avevo pensato a Battina Centurione Grimaldi in termini interrogativi, perché Battina Centurione Grimaldi è la moglie dell'ospite del Duca di Mantua in occasione del soggiorno del 1607, quindi non avendo altre indicazioni era un'ipotesi possibile, ma come vedrete ci sono anche a riguardo delle novità. La trentanovesima scheda riguarda Paolo Agostino Spinola, era documentato questo ritratto già in antico perché una lettera dell'archivio Gonzaga era già stata resa nota nell'Ottocento nel corpus di Max Rulles, perché c'è una lettera di Paolo Agostino Spinola da Nibole Chieppo in cui si dice esplicitamente che non si hanno notizie di Pietro Paolo Rubens, ma si aspetta con comodo dell'artista, quindi senza sollecitarlo, che siano pronti il ritratto suo, Paolo Agostino Spinola e quello di mia signora, che è Ginevra Grillo Spinola. Questa lettera dell'archivio Gonzaga di Mantua è stata, come dire, completata, già ne avevo dato notizia nel 2004, dal ritrovamento del copialettere di Paolo Agostino Spinola, che è questo volume, dove a una certa pagina nella lettera che vedete copiata nella pagina di destra è rivolta a Nibale Chieppo, ma nel giugno successivo rispetto al 6 di cui era la precedente lettera, non c'è l'intestazione ma che sia a Nibale Chieppo si deduce. Primo, vi posso dire, signor Annibale, ma non solo, ma il contenuto della lettera riferisce chiaramente della notizia che è arrivata a Genova dell'arrivo di Vincenzo per la famosa vacanza a San Pierdarena. Mi ha colpito, leggendo bene la lettera di Raita Chieppo, perché non immaginavo che fosse così riguardo alla mia città, che passa sempre per Musona, dice chiaramente Paolo Agostino Spinola che tutti gli uomini si rallegrano e in particolare le donne sono particolarmente felici, quindi come se fosse proprio un evento epocale, evidentemente un soggiorno di un sovrano a quella data. Ma nella pagina di sinistra, ingrandendo, la lettera è diretta addirittura a Pietro Paolo Rubens e, per non farvi faticare, l'ho trascritta a sinistra e qui si dice chiaramente che i due ritratti sono stati finiti ultimamente, ultimamente Vossignoria mi scrisse che aveva finito i miei quadri, che non li mandava per non aver sicuro passaggio di persona conosciuta. E quindi viene annunciato che un altro genovese che evidentemente sta a Mantua, Bernardo De Franchi, si debba occupare del trasporto da Mantua. Questo è già un dato interessante, riflettendoci bene, perché vuol dire che questi due ritratti sono stati eseguiti a Mantua, sono di due genovesi, quindi o Rubens a Genova aveva eseguito uno schizzo delle teste e poi li aveva completati a Mantua, o i due genovesi erano stati temporaneamente a Mantua. Insomma, i quadri sono educati per due genovesi ma fatti a Mantua e spediti una volta finiti a Genova. Ho indicato il cognome completo di Paolo Agostino Spinola, che si chiamava anche Grimaldi Ceba per via di un'eredità, perché lui, giusto per dare un po' di contesto, era il proprietario della villa alessiana che si chiama Grimaldi in Bisagno come soprannome, ma questo è il nome che riporta Rubens nei palazzi di Genova, di fatto dobbiamo chiamarla Grimaldi Ceba, perché anche qui sono precisazioni che a noi servono a capire un po' meglio il contesto. Di queste due lettere avevo dato già conto nel catalogo del 2004, anche se senza enfatizzare la cosa nella mia introduzione, ma ci sono delle novità, perché di fatto comunque il ritratto di Paolo Agostino Spinola e Grimaldi Ceba eseguito da Rubens, continuiamo a non sapere quale sia. Ho però trovato, e qui mi ricollego alla comunicazione di questa mattina di Giacomo Montanari, un testo letterario, perché evidentemente più di quanto pensavamo, abituati a pensare ai nostri genovesi, sempre solo attenti al denaro e a null'altro, invece anche il coteo letterario aveva degli aspetti interessanti. E nelle rime di Scipione della Cella pubblicate a Milano nel 1609, a Milano perché era morto esule a Milano nel 1608, c'è una lirica che il cui titolo, vedete bene, è a un pittor fiammingo che fece il ritratto del signor Paolo Agostino Spinola, inteso per Damone, felicissimo poeta e amatissimo, dove al secondo verso si vede chiaramente che il pittor fiammingo è Pietro Paolo Rubens, visto che viene chiamato, che dal gel di Borea, in realtà forse Scipione della Cella non era stato a Roma di dicembre, perché devo dire che il gel di Borea anche a Roma in questo momento si sente, dove leggendo tutta la lirica che è un petrarchismo piuttosto elaborato, si capisce chiaramente che il ritratto di Paolo Agostino Spinola, sempre che si possa trovare in un futuro, era connotato come di un poeta, poeta a cui mancava, lo dicono gli ultimi due versi, mancava solo la rappresentazione della lira, quindi dobbiamo pensare a presenza di carta, di libri, di qualcosa del genere, in un ritratto, ma continuiamo, o la corona dall'oro, insomma, elementi che ci fanno credere che il ritratto di Paolo Agostino Spinola fosse quello di un poeta. La successiva scheda è quella della moglie di Paolo Agostino Spinola, Gineva Grillo Spinola, e Francis II pensava, senza averlo potuto vedere di persona, al ritratto di Rubens che è a Bucarest. Ma riflettendo a lungo su questa vicenda e mettendo insieme gli elementi mi sono reso conto che se si guarda la discendenza di Paolo Agostino Spinola e di sua moglie, che qui ho reso in termini essenziali, quindi Paolo Agostino Spinola e Ginevra hanno avuto un unico figlio, Lazzaro, che ha avuto un'unica figlia, Maddalena, che ha sposato Giulio Centurione, Giulio Centurione, il primo agente, si chiamava Agostino, che ha avuto una figlia, Ginevra, che ha sposato Francesco Grimaldi, e poi c'è Giovanni Battista Grimaldi come discendenza, questo in termini essenziali. E ho sottolineato i nomi di Agostino e Giovanni Battista, per Agostino Centurione e Giovanni Battista Grimaldi, quindi due famiglie diverse, ma collegate appunto da questo matrimonio fra la figlia dell'uno e il padre di Giovanni Battista. Questi due personaggi, Agostino Centurione e Giovanni Battista, sono i due personaggi di cui, durante il Settecento, diverse fonti ci dicono essere proprietari di questi due quadri. Quindi tutto porta a pensare che Ginevra e Spinola Grimaldi sia una di queste due signore, senza per il momento saper dire chi sia l'altra e quale delle due sia Ginevra. Vi lascio un po' di suspense e vado avanti. Brigida Spinola Doria, che non era marchesa, lo rivalisco, ma ovviamente senza puntigliosità, solo per fare un po' di ironia, è uno di quei ritratti, anzi l'unico tra quelli sopravvissuti, in cui una didascalia ci dice precisamente il nome del personaggio. Credo, sappiate tutti, che quello che è oggi sopravvissuto è solo un frammento del quadro originale, di cui esiste un disegno che c'è lo testimonia, e poi una litografia francese, dove in basso a sinistra è riportata anche la scritta che ricorreva. Ecco, più o meno in rapporto ai due quadri, quello che manca, vi rendete conto, non è poco. Ma, come vi dicevo, appunto, c'era una scritta nella parte che è stata resecata, l'anno di esecuzione è il 1606, c'è il nome e il cognome, quindi diamo per certo chi è la persona infigiata. 1606, che è un anno in cui Rubens non risulterebbe da documentarie a Genova, ma, come ho dimostrato prima, sappiamo per certo che Rubens ha fatto anche ritratti genovesi senza essere a Genova. C'era già passato, questo lo sappiamo per certo. Per contestualizzare un attimo che è il personaggio, era la moglie di Giacomo Doria, che è il personaggio con i baffi seduto di fronte a voi che guardate, cioè vicino alla signora vestita di blu, e questa è appunto la miniatura di Van Dyne. Quando Giacomo, che aveva commissionato il ritratto della moglie, muore, 1615, lo lascia in eredità a suo fratello Giovan Carlo, cioè il personaggio ritratto a cavallo da Rubens, quindi vi rendete conto che già in questa famiglia aveva fatto, dopo la deposizione della carica di Doge, il ritratto ad Agostino in veste di senatore, aveva fatto il ritratto della moglie di Giacomo, e poi aveva fatto il ritratto di Giovan Carlo. Giovan Carlo è il personaggio a destra che poggia il gomito sul tavolo ottagonale preziosissimo che gli era stato donato dai granduchi di Toscana. E chiaramente il dono del ritratto da Giacomo a Giovan Carlo è proprio in funzione del fatto che Giovan Carlo è un collezionista talmente appassionato che Giacomo, morendo, ritiene opportuno che tocchi a suo fratello in eredità. Anche Giovan Carlo però ha avuto una vita non lunga, è morto nel 1625, e a quel punto il quadro, dopo un breve passaggio al figlio di Giovan Carlo, viene restituito all'effigiata, cioè torna in possesso di Brigida Spinola Doria che, rimasta vedova di Giacomo, si era sposata con Giovincenzo Imperiale. Qui ho fatto un fotomontaggio, vedete chiaramente, rispetto all'immagine che ha mostrato Giacomo Montanari, cioè c'è Vincenzo Imperiale con Brigida al suo fianco. Il ritratto di famiglia è stato commissionato in realtà dal figlio primogenito di Giovincenzo, Francesco Maria, che è il signore con i baffi neri piuttosto vistosi all'estrema sinistra, quasi a voler rappresentare una pax familiare che in realtà non c'era affatto, litigavano come forsennati e per di più Brigida non era più nel fiore degli anni come al tempo del ritratto di Rubens e forse anche per, come dire, colpa di Fiasella e Casoni, che sono gli autori di questo ritratto di famiglia, Brigida nel frattempo, diciamo, mostrava chiaramente il passaggio del tempo e quindi non era più... Però questo vi spiega, il matrimonio vi spiega, il fatto che poi nel 1661, nell'eredità imperiale, c'è un ritratto di donne in piedi del Rubens che è Brigida, Spina la Doria, entrata nelle collezioni appunto degli imperiali. Femmer presenta come Brigida, Spina la Doria, in punto interrogativo, anche la seconda delle due dame di Kingston Lacey. Allora, al di là del fatto che siccome di Brigida, Spina la Doria, seguiamo tutte le vicende e sappiamo, conosciamo perfettamente, l'inventario dei beni di suo marito, del primo marito, il passaggio nelle collezioni di Giovan Carlo, poi il passaggio nelle collezioni di Giovincenzo Imperiale, sappiamo che Rubens, a Brigida e Spina la Doria, ha fatto uno e uno solo ritratto. Quindi questa seconda possibilità, che nonostante una certa somiglianza, questa sia Brigida e Spina la Doria, è totalmente da cancellare. Anche in questo caso vedete che i nomi sono stati i più vari. Io stesso nel 1994, pensando di riconoscere le armi sulla bandiera, avevo proposto Maria Serra Parvicino, con questo nome l'abbiamo riproposto ancora nella repertoriazione delle opere rubensiane per Genova, pubblicata nel 2004 da me e da Anna Orlando appunto, ma anche qui ci sono, a mio parere, delle cose da precisare. Questo bellissimo ritratto ha di nuovo un'iscrizione, è del 1606 come l'altro, quindi un altro ritratto datato da Rubens in un anno in cui Rubens non è documentato a Genova, e questo fatto che il dipinto si è offerto con una singolare devozione aveva portato a pensare alla moglie di uno dei personaggi più in vista di Genova in quel momento, che era Niccolò Paravicino, il comittente della grande pala, il comittente, insomma, il finanziatore della grande pala di Rubens alla chiesa del Gesù. Tuttavia, vi ho detto che uno di queste due dame dovrebbe essere Ginevra Spinola Grillo, sempre dando per le vicende ereditarie come una possibile traccia per riuscire a dare dei nomi. Ma, siccome, se ricordate, nelle lettere scritte fra Rubens e Paolo Cosino Spinola, di cui la prima si chiede se l'opera è in corso di esecuzione, in quella del giugno del 1607 si dice le opere recentemente finite, dobbiamo pensare che il ritratto di Ginevra Spinola Grillo sia stato eseguito fra 6 e 7. La dama vestita di bianco, come vi ho mostrato prima, è datata a 1606, quindi non è la dama vestita di bianco e quindi, molto probabilmente, questa che nel Corpus Urbegnanum è rappresentata come Caterina Grimaldi Connano, a questo punto io sono portato a proporre che sia Ginevra Grillo Spinola, che nel caso della commissione 1606-1607, per ora sia disperso il ritratto del marito, ma almeno il ritratto della moglie sia identificabile. Ulteriore scheda del Corpus Urbegnanum, questa presentata come Veronica Spinola Doria, ovvero sarebbe la moglie di Giovan Carlo. Si dava per scontato che se Rubens aveva fatto il ritratto a Giovan Carlo, avesse fatto il ritratto anche alla moglie. Ma 40 anni fa, quando appunto le vicende delle famiglie genovesi erano ancora piuttosto poco note, non si sapeva che Giovan Carlo Doria si è sposato con Veronica Spinola Doria nel 1608, quindi dopo la presenza di Rubens a Genova e poi addirittura in Italia, e non solo, ma che Veronica Spinola Doria apparteneva a una di quelle tante famiglie genovesi che si era ramificata anche in Spagna e dalla Spagna è arrivata a Genova, quindi non era nemmeno possibile pensare che si trattasse del... Dopodiché, vedete che anche in questo caso ci sono state diverse proposte, nel catalogo del 2004 avevamo pensato a Maddalena Serra, sempre cercando di riconoscere questi benedetti colori araldici della tenda che ha alle spalle, Maddalena Serra che ha un unico cognome perché di fatto era Maddalena Serra in Serra, quindi Serra al quadrato per intenderci, e poi più di recente, proprio quest'anno, Anna Orlando ha elementi molto convincenti, ha pensato a Veronica Spinola Serra, cioè la moglie di Gerolamo Serra, un altro dei banchieri che hanno una triangolazione fra Mantua, la Spagna e Genova e le Fiandre, quindi potevano benissimo... Ma in questo caso il dubbio viene da un ritrovamento inventariale in questi termini. Un quadro era citato come il ritratto di M puntato, Pallavicina di Rubens, figura intera, alto parmi 10, largo 6, nell'inventario di Giofilippo Spinola del ramo dei duchi di San Pietro. Giofilippo Spinola è stato uno dei collezionisti genovesi più importanti a metà seicento, è quello che riesce ad acquistare la grande cena di Veronese che era nel convento degli Benedettini di Verona, quindi era stato un acquisto che aveva fatto scalpore in tutta Europa, era la prima cena di Veronese che lasciava la sede per cui era destinata, nemmeno il Re Sole a quella data era ancora riuscito ad avere un'opera di quel genere. e oltre alla cena di Veronese acquista molti altri quadri, fra cui appunto questo. Ma nell'inventario della sua discendenza si trova una descrizione che corrisponde perfettamente a questo quadro. Il ritratto di donna che sta a sedere vestita all'antica, all'antica vuol dire siamo a 1727, quindi alla moda del passato, con un gran collare al collo, all'intorno delle maniche e dove segue la puntatura della veste di esso ritratto, vi sono degli bottoni bianchi dipinti. E questo è l'unico ritratto di dama seduta di Vandic del periodo genovese in cui questa descrizione corrisponda in tutto e per tutto. Ora, ben inteso, bisogna anche vedere se il documento del 1660 riporta un dato giusto, erano già passati una cinquantina d'anni, quindi la confusione sui nomi è pur sempre possibile. Tuttavia, è pur sempre il dato più antico che abbiamo su questo ritratto e quindi che si tratti di una pallavicino, a questo punto quale pallavicino? Perché, fra l'altro, quell'emme puntato in teoria potrebbe anche voler dire magnifica a Genova, i nobili, dato che non avevano titoli, come ho detto più volte, almeno la maggior parte non aveva titoli, poteva anche essere magnifica. Un'ipotesi, però, è che questa, che appunto nel volume diciannovesimo era Veronica Spinola Doria, sia invece quella famosa Maria Serra Pallavicino, la moglie di Nicolò, con questi che sono gli stemmi e che, ribadisco, per quanto io abbia studiato per cercare di capire che diavolo di colori araldici ci sono in queste bandiere, a questo punto non sono... Nel 2004 avevo delle certezze, a questo punto non ho più certezze, quindi se qualcuno è in grado, meglio di me, di capire questi standardi, queste tende, ben venga. Dopodiché, se quella di prima è Maria Serra Pallavicino, questa non è più Maria Serra Pallavicino, dove l'unico elemento araldico è pur sempre quella bandiera che ho cercato di ingrandire per darvi un'idea, e a complicarsi le cose da soli, noi genovesi, abbiamo ben quattro famiglie genovesi, i Grimaldi, i Serra, gli Spinola e i Centurione, che, capite bene, riuscire a dire attraverso i colori araldici quali di questi... bisogna essere precisi. I Centurioni, in effetti, questo stemmario non è preciso, l'arma Centurione sarebbe effettivamente con la banda, non con la fascia. Però poco cambia per quello che può essere la resa su una tenda. A rendere tutto più complicato è che questo è uno dei casi in cui esiste una seconda versione. Io sono sempre molto attento, molto prudente nel trovare le somiglianze, però in questo caso direi che non c'è il minimo dubbio che si tratta dello stesso personaggio. E sarebbe un caso in cui Rubens ha fatto due versioni dello stesso personaggio con due abiti diversi, tutte e due piuttosto lussuosi. Quello in nero di Karlsruhe, motivato dalla descrizione dell'inventario Spinola di San Pietro, e quello di Buscoc Park, motivato appunto dalla somiglianza fra i due personaggi. Negli stessi inventari degli Spinola di San Pietro, dove, diciamo, secondo me si rintraccia questo ritratto, ad altre voci inventariali corrisponde la descrizione di un altro ritratto di Rubens. Nel 60 un quadro di retto Rubens, ritratto di donna Giovanna Pavese, di misura in tutto come sopra, che vuol dire alto palmi 10 e largo 6, con una fontana appresso e fiori sopra la testa a modo d'arco. Quindi ritorna quella che invece nel corpus urbegnano era indicata come Ginevra-Grillo-Spinola. La descrizione in questo caso è talmente puntuale, precisa e corrisponde in tutto per tutto, e fra l'altro abbastanza unico, almeno così pensavamo nel 97, quando questo quadro venne presentato alla mostra Vandaica a Genova, ma poi già entro il 2004 ne era spuntato un altro. Identica iconografia, quindi senza possibilità di dire quale dei due era quello dei, e visti tutti e due da vicino, io, Anna Orlando e chiunque abbia studiato queste cose in quegli anni, li davamo tutti e due per originali di Rubens, con però il problema di, primo, è la stessa persona o no? Siamo stati portati a pensare che siano due effigi diverse, ma a questo punto senza aver più la certezza di quale delle due è Giovanna Spinola Pavese. L'ultima delle schede del diciannovesimo volume riguardo a Genova è questo ritratto indicato in bianca Spinola imperiale, che sarebbe la madre di Gio Vincenzo Spinola. Questo è un dipinto che proviene dalla famiglia Coccappani imperiale di Modena e va detto subito che gli imperiali Coccappani sono una discendenza completamente diversa dagli imperiali di Gio Vincenzo, quindi pensare di identificare il personaggio solo per via dell'arte, però su questo per ora brancolo nel buio più totale. E presenta la specificità di essere un ritratto doppio, di non sappiamo bene se è una madre o una figlia, secondo Francis Hummer erano una nonna e una nipote, ma per fare una nonna e una nipote bisognerebbe anche pensare che è morta la madre per non presentarla. Però ribadisco, brancolo nel buio. Rapidamente poi vi presento quello che è venuto fuori nel frattempo, cioè rispetto al catalogo del Corpus Subrenianum, altri ritratti. Michael Jaffe ha pubblicato questo come ritratto di Niccolò Pallavicino, ma su questo mi sono già pronunziato l'arma araldica che è rappresentata, se è originale, è questa, cioè Pallavicino e Serra. Niccolò Pallavicino non era figlio di una serra e non esiste in araldica che un uomo si faccia rappresentare con l'arma araldica propria e quella della moglie, semmai si farà rappresentare l'arma di sua madre, ma non di sua moglie. Quindi non può essere Niccolò Pallavicino, o meglio, o l'arma è sovrascritta e allora non sappiamo chi è il personaggio, oppure è originale e allora questo non è Niccolò Pallavicino, ma al più potrebbe essere suo figlio Giovanni Agostino, dato che era figlio di Niccolò Pallavicino, e Maria Serra di cui vi ho parlato a più riprese. Giulio Pallavicino, in questo caso lo stemma è talmente chiaro che non ci sono dubbi e in più c'è scritto il nome sul cartiglio che il personaggio porta in mano. È un quadro che senza dubbio ha patito, quindi che può trovare qualcuno un po' dubbioso su un'autografia rubensiana, ma va riconosciuto appunto che è un quadro molto svelato, corrisponde perfettamente a un personaggio che in quell'entourage aveva a che fare, che ha avuto rapporti con la visita del Duca di Mantua e quindi tutto fa credere che sia una identificazione certa. Ovviamente il quadro è stato ridotto, dobbiamo pensare che avesse questo formato e vedete, ho voluto presentare il riferimento al celebre ritratto di Carlo V di Tiziano perché il modello è chiaramente questo. Tengo a precisare, a Genova queste date non c'è nessun pittore che faccia cose di questo genere, quindi è anche per esclusione di eventuali alternative. Un altro problema proprio di conservazione è dato da questa dama che presenta tutti i caratteri compositivi degli altri ritratti di dame, di alcuni dei ritratti di dame che vi ho presentato, è in una collezione privata, anche questo è svelato terribilmente, ha patito e il restauro non è riuscito più di tanto a recuperare e appunto mettendolo a confronto con questi, dal punto di vista della qualità è un quadro che ha perso almeno il 50%, però ritorno a dire compositivamente e come tipologia di ritratto corrisponde come cronologia e corrisponde a un momento in cui a Genova solo Rubens ha fatto ritratti di questo genere. Quindi riconoscendolo come un'opera che ha perduto molto della sua qualità originaria, anche ridotto di dimensioni, perché chiaramente questo è frutto di un taglio, sono portato a ritenerlo da inserire nel corpus rubeniano. Ecco, in caso di dipinti tagliati, vedete che il confronto regge molto di più. E infine, ma giusto per citare un pezzo che nel corpus rubeniano non è indicato, questo ritratto, questa testa, che è stata incisa da un pittore genovese di fine Settecento e che, come forse vedete nella sottoscrizione a sinistra, si dice Pietro Rubens Pinksit, al di là del fatto che ha un caratteri decisamente vandichiani, anche senza conoscerle, e poco rubensiani, poi soprattutto in Germania c'è l'opera di Vandic da cui è stato chiaramente tratto e quindi in questo caso è un'attribuzione evidentemente di collezione genovese di fine Settecento ma che non regge la verifica storica. Vi ringrazio. Grazie.